La Guardia di Finanza di Senigallia ha individuato una farmacia della città che rilasciava green pass irregolari, in quanto i relativi tamponi rapidi antigenici venivano eseguiti senza rispettare le procedure e i tempi tecnici previsti dai protocolli di esecuzione, fornendo così risultati inattendibili. I militari senigalliesi si erano insospettiti per un anomalo flusso di utenti presso una farmacia di Senigallia e a seguito di attività di osservazione, anche con riprese fotografiche, veniva accertata e documentata l'irregolare esecuzione dei tamponi. Nella sostanza non venivano rispettate le procedure previste per la raccolta dei campioni e la loro successiva preparazione e analisi. I finanzieri, rilevato il tipo e la marca dei tamponi utilizzati per il rilascio delle green pass, constatavano che il personale della farmacia impiegava solo una media di 3-4 minuti per ogni esame effettuato, fornendo anche la relativa risposta al cliente, mentre i tempi che consentono una idonea reazione chimica sarebbero dovuti essere di almeno 15 minuti oltre al prelievo. Molto alti dunque i test a pagamento con il pericolo di lasciar circolare liberamente persone potenzialmente positive. Tra le decine di tamponi messi sotto osservazione dei finanzieri non è stato comunque riscontrato nessun caso di positività. I titolari della farmacia, un 32enne e un 48enne, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Ancona per i reati di falso ideologico in certificati, commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e inadempimento di contratti di pubbliche forniture, oltre che per indebita percezione di contributi a carico dello Stato. Inoltre, gli esami non venivano effettuati in aree dedicate della farmacia, ma da personale che era all'aperto sulla pubblica via. Nei casi esaminati, i prelievi venivano registrati a sistema, indicando un orario antecedente a quello effettivo di esecuzione, così da non risultare eccessivamente ridosso dell'orario di rilascio del relativo Green Pass.